E' di due persone arrestate e di sei denunciate a piede libero il bilancio di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria ed amministrativa del locale commissariato avviata negli ultimi giorni a Gela. Controlli anche nei locali della Lungomare e del Centro Storico. Francesco Morteo, 52 anni, è stato ammanettato in ottemperanza al provvedimento di rideterminazione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Caltarissetta. L'uomo deve scontare 7 anni, 11 mesi e 3 giorni per delle condanne a residue. Arresti domiciliari per Giuseppe Ivan Brivitello, di 29 anni. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltarissetta. Il 29enne deve spiare un anno, 10 mesi e 20 giorni per rapina, furto e stupefacenti. Un ragazzo di 21 anni è stato segnalato alla Prevettura di Sena per possesso di quasi 40 grammi di marijuana rivenuta durante una perquisizione. Lo stupefacente era celato sotto il sellino del ciclomotore. Agli agenti, il giovane ha dichiarato che era per uso personale. Una ragazza di 26 anni è stata deferita per danneggiamento seguito da incendio e minaccia. Una sua coetanea è stata deferita per danneggiamento. Una 34enne dovrà rispondere invece di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lesioni personali e l'accusa mossa ad un uomo di 47 anni. Un 41enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L'ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito controlli ai locali di intrattenimento. Ispezionate tre attività, elevate due infrazioni e controllate 29 persone.